Musica Buongiorno e buona mozzarella a tutti ragazzi Woooo come state spero tutto bene qui e bella faccia E oggi nel video di oggi ragazzi diventeremo il re di tutti i panini Proprio così Allora innanzitutto dobbiamo andare Wow che cavolo sta succedendo Che cavolo calma 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 Innanzitutto dobbiamo prendere il lotto Ecco qua si prendiamo la nostra fabbrica di panini Perché oggi ragazzi dovremo sfamare nostro figlio E questo qua il linguone bananone Proprio così No non sono da mangiare non chiudere la bocca Mi raccomando se non siete ancora iscritti Che cosa state aspettando Iscrivetevi su Che cavolo è successo ha fame Ha fame quindi mi raccomando iscrivetevi E lasciate un bel mi piace Dobbiamo dar da mangiare a questo A questo nabbo gigante Perché ovviamente ha fame il poverino Ok quindi prendiamo il burger al formaggio Che è gratuito Ok fantastico Dobbiamo dare da mangiare al knob Ok quindi per favore Degli hamburger Sto arrivando knob Sto arrivando Sto arrivando un attimo eh Ecco gli hamburger Burger al formaggio Ma perché io devo fare questi video ragazzi Prima di pranzo Mi sta venendo famissima Ok Mangia Ecco magna Magna Bravissimo Bravissimo nabbetto Ok non hai cibo per nutrire Non ho cibo per nutrire il mio nabbo Ma guardate ragazzi che belli questi panini Mi ve ne voglio di mangiarli eh Ok sto arrivando nabbo Sto arrivando Tieni Tieni panini buoni Panini buoni da mangiare Ah si magna tutto Che nonna ti vede sciupato Oh guardate il nostro nabbone Bananone sta mangiando Si continuiamo così Ok allora vediamo Quanto costano gli altri 8 Ok un altro burger al formaggio Ok questo Qua è le patatine La torta Il panino spaziale Ma possiamo dargli veramente tantissime cose da mangiare a questo qui eh Ok continuiamo a prendere tutti gli hamburger Perché oggi dobbiamo diventare il re di tutti i panini E dobbiamo dare da mangiare al nostro nabbetto ovviamente eh Allora vediamo un pochettino Qua che è? Qualcosina da comprare eh? Che è qua? Ok rinascita rinascita Non ho tutti questi soldi Sai com'è? Ok un altro burger al formaggio Burger al formaggio Ok guardate Guardate quanti ne stanno arrivando Mamma mia ma che fame ragazzi Ma non si può Non si può registrare questo video prima di pranzo Sto arrivando nabbetto Tieni 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 Allora vediamo Alimentatore automatico Velocità Qualcosa che costa un pochettino meno Aumento velocità di alimentazione Io direi di prendere ancora più burger Ok burger al formaggio Fetta di pizza Il prossimo ragazzi è la fetta di pizza Guardate quanti hamburger ci sono Ce ne sono veramente tantissimi Piglia 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 Oh pigliali tutti Piglia li tutti bella faccia Ok ne ho un sacco 22 hamburger Tutti per te amico Tutti per te Continua a mangiare Continua a mangiare Guardate quanti ne stanno uscendo ragazzi Ne stanno uscendo Veramente tantissimi Prendiamo la fetta di pizza Ok Sono curioso di vedere Questa fetta di pizza Dov'è? Sta arrivando Eccola Eccola sta arrivando La pizza Oh la pizza Margherita Mi piace molto condita Ma questa qui è la pizza E la pizza con la salsiccia Pizza salame piccante Potrei mangiare il titanico Che è il titanico? Che vuol dire? Che vuol dire? Ma perché devi stare così steso? Sei proprio un ingordo Sei un ingordo Allora vediamo 1.4k per aumentare la velocità Ma io direi che adesso Prendiamo altre fette di pizza Appena il mangione Bananone le ha mangiate tutte Ok 3,2,1 Piglia Ok Altre fette di pizza Allora vediamo qua Ottieni premium Invita amici Sì però io ho bisogno di più cibo Per questo ciccio pasticcio Per questo ciccio pasticcio Ho bisogno di più cibo C'è qualcosa che mi fa aumentare di cibo? Più panini? Raccogli cibo per 2 Ok compriamo 200 robux E li spendiamo Per il mio amico Questo e altro eh E ci prendiamo ragazzi Anche 800 soldini belli Perché bella faccia È in vena di scioppare oggi Sì Scioppa Scioppa dai Ho detto di scioppare I miei soldi? Sì Piccolo Guardate Quanti panini Oh mio dio Quanti panini Quante pizzette Sì sono veramente tantissime Piglia piglia tutto Piglia tutto Piglia tutto Bella faccia Sì sì Piglia piglia Tieni manzone Allora dobbiamo sbloccare assolutamente Vabbè ma potevi scioppare qualcosa di meglio Bella faccia eh Allora Aumenta velocità 1.5 Ti devi muovere Devi mangiare di più Più pizze Più panini Salve amico Come va? Come va? Tutto bene? Sì salve Eh sì è un mangiore È proprio un mangiore Sì che ci vogliamo fare Ma che cavolo è qua ragazzi? Ma che è? Devo fare il parkour nei panini? E magari mi dà una bella ricompensa eh? Proviamo un po' a vedere Vediamo Oh mio dio Se casco la fine eh Panini col formaggio Cheeseburger Sì vorrei un cheeseburger Grazie Ok abbiamo finito il livello E adesso? Sì E vai ho completato Un cappa di denaro? Ma saperlo prima Ok ottimo Velocità di alimentazione Sì Più veloce Più veloce Sì il mangiore Ho lasciato spazio per il dessert No Non devi lasciare spazio per il dessert Mangione che non sei altro Devi mangiare i panini Più panini e pizze Guardate quante ne abbiamo Ne abbiamo veramente tantissime ragazzi Magna magna Che nonna ti vede sciupato Magna Sì vabbè Velocità di alimentazione 650k Ciao proprio eh Allora vediamo Che possiamo prendere Fetta di pizza Fetta di pizza Poi andiamo in fila Le patatine Ragazzi Addirittura le patatine E pigliamo le patatine Vediamo dove sono Delle patatine Grazie Patatine Dove sono Allora Queste patatine Non le vedo Eccole Le patatine del McDonald Le patatine del McDonald Stanno arrivando Eccole Patatine del McDonald Ah Ecco qui Le patatine Guardate che belle Tutte mie Tutte mie Allora vediamo Quanto ci danno le patatine Vediamo 17 dollari Danno tantissimo Grandissime patatine Così vi voglio patatine Così sì 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 Ok ragazzi Stiamo andando bene Stiamo andando bene Lui posso averne ancora Per favore Certo Certo Puoi averne Quanta ne vuoi Puoi averne Magna Magna Che non ti vede sciupato Allora Velocità di alimentazione 400 milioni Ok Roblox Ma calmati Altre patatine Che cavolo è successo Potrei mangiare Il titanico Un attimo Un attimo solo Non ho tutti sti soldi Per mantenerti Grazie per il cibo Prego Prego ragazzone Prego Tutto per te Allora vediamo Patatine E poi c'è lo dog A breve ci sarà lo dog Ragazzi dai Faccelo prendere Faccelo prendere 3 2 1 E pigliamo lo dog Ok Voglio proprio vedere lo dog Ragazzi Quanto da eh Perché già le patatine Davano tantissimo Dov'è il mio dog Eccoli Stanno arrivando gli dog Stanno arrivando gli dog Eccoli Che buono ragazzi Ma che fame Che ho guardate Nutri il knob Basta Se l'ho già Ho già scioppato Non voglio scioppare ancora Ok fantastico Abbiamo anche gli dog Ne abbiamo 6 Tieni Tutto per te Questo è un sogno Che diventa realtà Eh certo Mangiore Magna Magna più cose che puoi Io vado a fare altri parkour Perché mi danno i soldini Dopo Ok Questo Per completarlo Devo avere per forza Le scarpe scioppone Vediamo Oh Ce l'ho fatta Ok Eh vabbè ragazzi È difficilissimo Questo è troppo Eh vabbè È troppo difficile C'è questo Ti vuole far per forza Scioppare le scarpe Questo ti vuole far per forza Ah Oppure no Oppure No è impossibile ragazzi Le scarpe costano un bel po' Le scarpe costano veramente Troppo eh Dai dammi altri soldini Dai Facciamo questo Che almeno si dà mille Si dà mille Possiamo dare molte più cose da mangiare Al nostro mangione nabbone Forza mangione nabbone Sto arrivando A rimpinza Sì Un k Un k di cose Guardate quante cose ci sono qua Abbiamo riempito tutto Raccogli raccogli bella faccia Che non c'è più posto qua eh Mangione sto arrivando E beccati tutte ste cose Sì Magna Magna Quanta Quattrocento Cheeseburger Deve ancora mangiare Ma sei veramente un pozzo senza fondo Ho appena capito che non posso muovermi Ma va Non l'avrei mai detto eh Ok prendiamo altri Oh dog Oh dog Oh dog Oh mio dio Quattro dog Arriveranno ragazzi È un mangiore ciccionone Il nostro nabbone cicciottino Ok è stato fantastico Magna 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 Sì vabbè ragazzi Allora se ho dog Quattro cheeseburger Ne hai un'infinità da mangiare Quindi non lamentarti Allora ci prendiamo le torte adesso ragazzi Possiamo prenderci le torte Non ci posso credere Vediamo vediamo Sono veramente curioso Sono là Oh Fai venire le torte Si è bloccata la torta È rimasta là giù Oh Le torte Le torte Dove cavolo sono le torte Guardate quanto ne sputano fuori Ecco la torta Questa è la torta della nonna ragazzi È la torta della nonna Ma questa è la crostata Che buona la crostata Ok ottimo lavoro Adesso possiamo dargli anche le crostate da mangiare Peglia le crostate Sì la crostata Mi sento un po' pieno No devi continuare a mangiare Devi continuare a mangiare Perché dobbiamo diventare I più ricchi E i re Di tutti gli hamburger Hai capito? Eh? Hai capito? Sto parlando con te Basta mangiare Ne hai ancora per me Ma non eri pieno? Allora prendiamo un'altra torta E dopo possiamo prenderne anche un'altra Mamma mia Mamma mia Ma sto qui è pieno È un pozzo senza fondo Sto qui ragazzi Scommetto che potrei mangiare l'intero server Eh ci credo C'è il prosciutto Costa due trilioni Un po' meno Roblox Ragazzi il biscotto Abbiamo preso il biscotto Vediamo vediamo un pochettino Biscotto 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 Mamma mia quante robe che abbiamo Ne abbiamo tantissime Biscotti? Arrivano? Dove sono? Non li vedo Biscotti biscotti Guardate che bella fabbrica Guardate! Ma tutto il cibo sta cascando da lì Ecco guardate da dove casca Cascano lì Guardate fa troppo ridere E i biscotti? Dov'è il biscotto? Eccoli! I biscotti Sono lì li vedete? Mamma mia quei biscotti buonissimi E il cioccolato Sto arrivando Sto arrivando Ecco a te amico mio Si magna 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 tutto Magna tutto Che nonna ti vede sciupato Mi chiedo Se ci sono dei drink No mi dispiace No mi dispiace Ci sono da mangiare Ok biscotto numero due Forza così ragazzi Guardate quanto cibo Che stiamo producendo E abbiamo preso anche L'ultimo biscotto Mamma mia Mamma mia Quanto gli stiamo dando da mangiare Ragazzi Gli stiamo dando da mangiare Tantissimo Continuiamo così Guardate che roba Guardate quante cose Che deve mangiare ancora 500 cheeseburger 200 pizza 200 patatine Ho appena capito Che non posso muovermi Mamma amico Non l'avrei mai detto Ok Adesso ci sarà Il panino spaziale Vediamo questo panino spaziale Io spero sia gigante Io spero sia gigante Questo panino spaziale Vediamo È già arrivato Oh mio dio È già arrivato Vediamo un po' Ma che schifo Ma c'è un alieno dentro È un sandwich Ragazzi È un sandwich Che schifo Tieni Ti do da mangiare Mi raccomando Magna il più possibile Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Stiamo dando un sacco Da mangiare Al nostro mangione Se volete il secondo episodio Fatemelo sapere Perché ancora Ne abbiamo di strada Per diventare I re di tutti i panini Da noi è tutto E ci vediamo presto In un nuovo fantastico video Ciao da me E dal mangione Ciao Wow Ma grazie Ciao 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 Grazie a tutti.